Ciao a tutti, volevo parlarvi di Silvia Nori come social media marketing, come social media manager quindi si occupa appunto di social media marketing, ovvero di pubblicità alle aziende e soprattutto alle aziende, ovvero lei si occupa di fare post sui profili social dell'azienda per sponsorizzarle quindi per tutte le informazioni, per saperne di più, io vi lascio il link in descrizione del suo profilo Facebook basta che la contattiate, eventualmente potete instaurare un rapporto di collaborazione con lei se avete appunto bisogno di una persona che vi cura la vostra immagine, che vi gestisca i profili social che vi faccia dei post social mirati e volti alla promozione della vostra attività maggiormente quindi vi dico maggiormente perché non so di preciso se lo fa anche per i personaggi pubblici quindi se appunto un personaggio pubblico può farsi curare l'immagine da lei comunque per l'azienda assolutamente sì, quindi per tutte le informazioni mi invita a contattarla è un'esperta del settore digitale, quindi del posizionamento dei post, di molte cose insomma del web quindi appunto sa fare post accattivanti, post che invitano sostanzialmente le persone a visitare la vostra azienda quindi per tutte le informazioni vi lascio in descrizione il suo profilo Facebook